Medio Oriente, scattata stamane la tregua tra Israele e Hamas. Nel pomeriggio rilasciati 13 ostaggi israeliani e 12 lavoratori tailandesi rapiti a Gaza. Via libera della Commissione europea alla revisione del PNRR italiano contenente anche il capitolo del Repower EU nel nuovo piano, 150 investimenti e 66 riforme. Trasporto pubblico, i sindacati di base confermano lo sciopero di 24 ore della categoria per lunedì. Il ministro Salvini si riserva di ricorrere alla precettazione. Formazione al lavoro lunedì a Civitavecchia una delegazione di studenti all'evento del progetto Grimaldi Educa sulla Cruz Barcelona è il primo appuntamento del Festival dei Giovani 2024. Meteo da domani e per tutto il weekend, temperature in picchiata, primi fiocchi di neve sugli appennini, centro meridionali, gelate diffuse anche al nord. Buonasera, apriamo con il conflitto in Medio Oriente scattato. Questa mattina alle 7 ora locale il cessate il fuoco di quattro giorni tra Israele e Hamas. Nel pomeriggio sono stati rilasciati 13 ostaggi israeliani, oltre a 12 lavoratori tailandesi che erano tenuti prigionieri. Inoltre, sempre oggi sono giunti nella striscia camion carichi di cibo, medicine e acqua e anche tre cisterne di carburante hanno oltrepassato il confine. Tuttavia non sono mancate ombre. Un attacco di Hamas sarebbe avvenuto poco dopo l'inizio della tregua, mentre alcuni cittadini palestinesi sono stati uccisi nel passaggio dal sud a nord di Gaza. Ma cambiamo argomento. È arrivato nel pomeriggio il via libera della Commissione europea alla revisione del PNRR italiano contenente il capitolo sul Repower EU. Il piano dell'Italia ha ora un valore di 194,4 miliardi e prevede 150 investimenti e 66 riforme, ovvero 7 in più rispetto al piano originale. Il ministro Raffaele Fitto punta a predisporre da gennaio un intervento legislativo che favorisca l'accelerazione del piano anche attraverso elementi di semplificazione. Obiettivo di Fitto raggiungere entro fine anno anche gli obiettivi della quinta rata e incassare il pagamento di 16 miliardi e mezzo. Un doppio via libera che chiude almeno per il 2023 uno dei capitoli più complessi del rapporto tra l'Italia e l'Unione europea, quello del piano nazionale di ripresa e resilienza. Per la mole dei finanziamenti e la corposità delle modifiche l'esame di Palazzo Berlaymont è stato lungo e non privo di criticità. Che l'esame si concluda molto presto è anche nell'ordine delle cose, la valutazione delle modifiche che hanno interessato ben 144 misure tra riforme e investimenti, in questi quattro mesi è stata oggetto di una stretta e costruttiva collaborazione tra Bruxelles e Roma, con un obiettivo cambiare in corsa eventuali punti oscuri senza incorrere in bocciature dannose per l'Italia ma anche per l'Unione europea. C'è poi da tenere presente anche semplicemente il calendario, affinché le risorse previste dal recovery plan non vadano perse, entro il 31 dicembre tutti i piani modificati vanno approvati in via definitiva, ovvero dal Consiglio europeo. Quest'ultimo ha quattro settimane per ratificare il giudizio per la Commissione. Il PNRR italiano dovrebbe finire sul tavolo dell'ECO fino a dell'8 dicembre e non sarà certo il solo. Si è concluso con un nulla di fatto il tavolo di confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il Vice Premier Salvini e i sindacati di base che hanno dunque confermato lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato per il prossimo lunedì 27 novembre. Il Ministro Almit si è riservato di valutare la precetazione. Si è tenuto oggi anche l'incontro a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i rappresentanti delle associazioni datoriali sulla legge di bilancio, mentre è slittato a martedì prossimo al confronto con i sindacati, oggi nelle piazze del Nord Italia, per manifestare proprio contro la manovra. Sempre oggi, inoltre come da attese il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul DL Migranti. La votazione è attesa lunedì, mentre l'ok finale al provvedimento dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì 29 novembre. E ha preso il Via Oggi a Baveno, sul Lago Maggiore, il Forum Internazionale del Turismo 2023, organizzato dal Mitur. Visione, azione e futuro sono le tre parole chiave per il Ministro Daniela Santanchè, che nel corso della Due Giorni ospiterà un gran numero di rappresentanti del Governo, oltre a numerosi stakeholder della filiera turistica. Obiettivo è evidenziare la strategicità del settore, che nel nostro paese rappresenta il 13% del PIL, un dato che posiziona l'Italia al settimo posto in Europa per incidenza del settore sul prodotto interno lordo. Mercati finanziari, giornata piuttosto ingessata per le borse europee, con gli occhi degli investitori ancora puntati su inflazione e politiche monetarie. Dopo che sia Fed che BCE hanno raffreddato, le speranze in merito ad un taglio dei tassi già nel 2024, pressoché stabili i prezzi di gas e petrolio, mentre in Italia il prezzo medio della benzina alla pompa ha raggiunto il minimo da inizio 2023, ovvero a 1,81 euro al litro. E proprio l'andamento dei prezzi dei beni energetici e delle pressioni inflattive e i riflessi delle conseguenti decisioni di politica monetaria sono alla base delle recenti previsioni della BCE sull'economia europea. Non sarebbero ancora scongiurati i rischi di recessione. L'Eurozona entrerà nel nuovo anno con più rischi che certezze, una situazione che pesa sull'economia destinata a trovarsi ancora faccia a faccia con la recessione. Lo scenario peggiore per la crescita resta possibile, secondo la Banca Centrale Europea, e i più vulnerabili restano come sempre i paesi più indebitati. Per questi ultimi non è l'unico pericolo. I complessi negoziati sul patto di stabilità aumentano l'incertezza che pesa direttamente su spread e rendimenti, rischiando di farli salire di nuovo se i mercati cominciassero a sentire il pericolo di procedure per deficit eccessivi in arrivo. Nell'ultima analisi dell'anno sulla stabilità finanziaria, la BCE avverte sul deterioramento del già debole scenario economico. Lo indicano chiaramente i numerosi tagli alle stime, sorprese economiche negative, che confermano un quadro debole con consistenti rischi a ribasso. Di conseguenza le prospettive della stabilità finanziaria restano fragili. E non solo perché i mercati restano esposti a condizioni macro avverse, ma anche perché le tensioni in Medio Oriente aggiungono incertezza. E parliamo ora del mercato del lavoro, che diventa sempre più digitalizzato, un aspetto che tuttavia, secondo l'Inail, potrebbe gravare sulla sicurezza dei lavoratori. Computer e telefoni cellulari sono ormai indispensabili per oltre 8 aziende su 10 in Europa, eppure soltanto nel 24% dei casi si punta l'attenzione sui pericoli dell'utilizzo costante di tali dispositivi. Intanto diventa più folta la schiera dei cosiddetti rischi emergenti per gli occupati, che vanno dal tecnostress alle violenze e le molestie, che possono derivare da una differente modalità di esecuzione delle mansioni. Sono alcuni degli elementi emersi dal convegno ospitato dall'Inail, l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con l'obiettivo di lanciare in Italia la campagna Ambiente di Lavoro Sani e Sicuri 2023-2025, promossa dall'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, dato che in Europa c'è una percentuale di occupati che usa PC, smartphone e altri dispositivi, pari al 93% nelle grandi realtà produttive e all'85% nelle microimprese. L'iniziativa, che comprende anche premi per le buone pratiche aziendali, punta a diffondere in tutti i Paesi membri la consapevolezza dell'impatto delle nuove tecnologie digitali, concentrandosi su cinque settori considerati prioritari, il lavoro su piattaforma digitale, l'automazione dell'attività, il telelavoro e il lavoro ibrido, la gestione dei lavoratori tramite l'intelligenza artificiale e i sistemi digitali intelligenti. Oggi è il Black Friday, un venerdì nero, il cui giro d'affari supererà le cifre del 2022. Vediamo il servizio. Si preannuncia un Black Friday da record con la febbre dell'acquisto che darà vita ad un giro d'affari che sfonderà la soglia dei 4 miliardi di euro, il 15% in più sul 2022 per tutti i 10 giorni delle offerte. Una corsa allo sconto che vedrà il 60% degli italiani andare nei negozi o sui siti online per non farsi sfuggire l'affare con il 57% di questi che sceglierà di comprare articoli di abbigliamento. Saranno soprattutto le donne ad affollare i negozi, e ad utilizzare l'online, i giovani fino a 34 anni e coloro che risiedono nelle regioni del nord-ovest e del mezzogiorno. Un italiano su due, sottolinea l'Associazione dei Comercianti, approfitterà per acquistare in anticipo i regali di Natale, tendenza in aumento rispetto allo scorso anno. Come da tradizione, in vetta alla classifica degli acquisti ci saranno i capi di abbigliamento, seguiti con il 44,7% dai prodotti di elettronica o elettrodomestici, con il 35% da calzature e prodotti di estetica. Il 92,4% spenderà fino a 500 euro a persona, con la spesa media che si aggirerà sui 236 euro, dice lo studio, secondo cui la quasi totalità comprerà con pagamento immediato, utilizzando in modo prevalente Bancomat 36,3% e carta di credito 34,7. Il 10% userà il contante, il restante utilizzerà altri metodi di pagamento. Meteo è in arrivo su tutta l'Italia, la prima ondata di freddo intenso. Da domani e per tutto il weekend una corrente di matrice artica irromperà sul paese con vento freddo, temperature impicchiata anche di 10 gradi e gelate al nord e in pianura. La neve sarà un elemento chiave dei prossimi giorni, soprattutto sugli appennini centro-meridionali, dove sono attesi fiocchi anche a bassa quota. Tuttavia sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo, mentre da lunedì è atteso un netto peggioramento da nord a sud. E continuando a parlare di clima, il 2023 è stato un anno caratterizzato da numerose anomalie che non hanno risparmiato gli oceani. L'Agenzia Spaziale Europea ha di recente denunciato un innalzamento record delle temperature. Il riscaldamento degli oceani continua purtroppo a infrangere record su record. Per l'ottavo anno consecutivo le temperature del mare sono infatti aumentate. Il nuovo massimo di temperatura è stato registrato il primo novembre scorso dal programma di osservazione della Terra Copernicus di Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. La temperatura media della superficie degli oceani nella zona compresa fra il sessantesimo parallelo sud e il sessantesimo parallelo nord è stata di 20,79 gradi, la più alta finora registrata e ben 0,4 gradi sopra le medie del periodo, dati che preoccupano Antonello Pasini, fisico del clima della CNR. Il riscaldamento degli oceani è causato in grandissima parte dall'uomo e fenomeni naturali come Ennigno hanno contribuito solo marginalmente all'incremento delle temperature. Con il mare così caldo inoltre c'è un notevole maggior rischio di eventi estremi. Non si arresta quindi il trend cominciato nel 2016 come afferma uno studio sulla rivista Advance in Atmosphoric Science e guidato all'Accademia Cinese delle Scienze, il quale hanno contribuito anche ricercatori italiani di Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Il Festival dei Giovani, il più grande evento di formazione e orientamento al lavoro dedicato alle nuove generazioni, fa tappa a bordo della Cruise Barcelona di Grimaldi Lines. Lunedì 27 novembre nel porto di Civitavecchia la nave ammiraglia della Compagnia Partenopea ospiterà nell'ambito del progetto Grimaldi Educa una delegazione di studenti provenienti da tutto il Lazio per un confronto su temi quali lo studio, le nuove professioni, l'evoluzione digitale e l'intelligenza artificiale. Restiamo in ambito marittimo, la DSP dei Maritirreno Meridionale Ionio ha annunciato il taglio dell'importo delle tasse di ancoraggio con l'obiettivo di sostenere l'attività del porto di Gioia Tauro e ridurre il gap di concorrenza con gli altri scali internazionali che affacciano sul Mediterraneo. Il plafond messo a disposizione dall'autority ammonta per il 2023 a un milione e mezzo di euro il triplo rispetto allo scorso anno. I benefici dell'ordinanza saranno applicati a tutte le navi commerciali ma non alle unità passeggeri. Entro la prossima settimana gli autotrasportatori potrebbero avere una risposta sull'utilizzo dei 70 milioni di euro come rimborsi per le spese legate al carburante. Lo ha assicurato il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini specificando stiamo lavorando con il MEF. È giusto che questi soldi vadano a sostenere un settore che non si è mai fermato quando l'Italia era ferma. Si tratta di fondi già stanziati che devono essere utilizzati inderogabilmente entro la fine dell'anno. Ora una notizia dal cluster. P3 Logistics Parks, società specializzata in investimenti e gestione di immobili a uso logistico, ha vinto per il quarto anno consecutivo il premio miglior sviluppatore logistico dell'Europa del Sud. Motivo del prestigioso riconoscimento assegnato annualmente dallo European Real Estate Brand Institute, l'impegno di P3 Logistics sul territorio nazionale con circa 700 mila metri quadri in gestione, altri 240 mila in lavorazione per sviluppi futuri e un'occupansi vicina al 100%. Via libera al decreto del MIT che stabilisce i criteri per la concessione di contributi per il rinnovo o la ristrutturazione dei veicoli ferroviari per l'adeguamento RTMS. In base al provvedimento i sostegni saranno erogati nella misura massima del 70% dei costi elegibili e nel limite massimo di 60 mila euro per ogni dispositivo di bordo presente sul veicolo oggetto dell'intervento. Era questa l'ultima notizia della giornata, grazie per l'attenzione e appuntamento a lunedì prossimo. Buona serata.